Abbiamo aspettato tanto tempo, ma finalmente la bella notizia è arrivata. Dopo i lavori effettuati a Rivo Cannitiello e a Rivo San Pietro, che hanno consentito di intercettare gli ultimi scarichi che arrivavano a mare, l'altro ieri l'ARPAC ha effettuato i tradizionali prelievi sulla qualità delle acque. L'esito è arrivato oggi, è arrivato pochi minuti fa, lo potete vedere dal sito dell'ARPAC Balneazione. Ora possiamo dire che questo litorale è tornato nuovamente ad essere l'ARPAC. Quindi sarà possibile da qui a pochissimo nuovamente ruffarsi e restituire questo splendido mare, questo splendido litorale ai cittadini scabesi, ma in generale a tutti i cittadini vesuviani e a tutti i cittadini della provincia di Nauro. Resta e compito che, come abbiamo parlato da poco, resta da risolvere la questione della spiaggia, perché qui nei mesi scorsi sono state fatte una serie di indagini per riferificare il livello di inquinamento della sabbia che è stata, diciamo, dalle analisi assolutamente conforme, verrà certificata il mese prossimo in una conferenza di servizi che sarà in regione, dopodiché finalmente festeggiare la riapertura del litorale, assolutamente potremo festeggiare la restituzione a tutti i cittadini di questo splendido mare. Grazie a tutti.